Oggi un po' in ritardo, un buongiorno a tutti quanti voi, ieri abbiamo finito tardi, una puntata lunga, lunghissima di Matrix, abbiamo finito tardi ma devo dire che ci avete seguito come non mai, nel senso che abbiamo avuto un grandissimo successo martedì e mercoledì vi ascolti, una piccola parentesi la faccio subito, molti mi criticano, ieri lo hanno fatto preventivamente perché ho intervistato Renzi, mi viene molto da ridere questa idea che alcuni hanno sulla rete, che non è la mia idea e spero che non sia di tutto, tutti quanti voi che mi seguite è che io non possa intervistare Renzi, io posso intervistare e questo fa parte del mio mestiere chiunque, posso e godo a intervistare Di Maio, godo a intervistare Di Battista, godo a intervistare Renzi, Berlusconi, Emiliano, tutte persone che sono passate per la nostra trasmissione, così come è legittimo, come qualcuno di voi scrive, che se c'è Renzi in televisione cambia canale e questo fa parte delle regole della televisione. Quindi io trovo che quello non sia offensivo, sia corretto, chiunque non ami Renzi o consideri le cose che dice, le solite cose, fa benissimo a non aver seguito ieri Matrix, grazie a Dio ieri durante la trasmissione di Renzi ci sono stati picchi di un milione e mezzo di persone, ma non è questo il punto, questo è accettabile, quello che non è accettabile sono quei deficienti che scrivono straordinari, che mi hanno scritto, che ho intervistato Renzi, soprattutto nel Movimento 5 Stelle, ma sono peggio degli eletti, gli elettori che ragionano come hanno ragionato ieri, che hanno detto così ti sei preso la paghetta, ecco la paghetta, cioè io mi prenderei la paghetta da Renzi, questi deficienti cretini, spero che se ne vadano via fuori dalle valle, dalla nostra zuppa. Chiusa la zuppa, iniziamo con i giornali, i giornali riguardano sempre il Movimento 5 Stelle, riguardano il gran casino che si è fatto sul report, il gran casino fatto sul report è un po' come, ho l'impressione, quei giocatori che nell'area di rigore si buttano a terra perché vogliono chiedere rigore, insomma dopo qualche piccola scomposta dichiarazione sul report, il Movimento 5 Stelle si è buttato in area di rigore e ha detto, ah vogliono chiudere il report, non ci stiamo, attacco alla democrazia, insomma mi sembra che abbiano un po' esagerato, oggi si legge in tutti i giornali, non c'era bisogno della Maggioni che è la Presidente della RAI e che cambia idea con la velocità della luce, non c'era bisogno che lei difendesse report, era banalmente nei fatti che sul report non si sarebbe chiuso e nessuno voleva chiuderlo, però il Movimento 5 Stelle ha detto non paghiamo il canone se si sospende il report, anche su questo ho qualche dubbio, non tanto perché sia in discussione il non pagamento del canone, perché è una polemica legittima e si può benissimo farla dicendo è giusto che si debba ancora pagare il canone per la divisione pubblica e non si possa privatizzare, cosa che né a Mediaset né a RAI piace perché la privatizzazione della divisione RAI comporterebbe anche un nuovo concorrente per Mediaset, ma non è questo il punto, il punto è che scusami non paghi il canone perché fanno fuori una trasmissione, caro Fico, Presidente della Commissione di Vigilanza RAI, io non contesto la posizione di non pagare il canone come legittima posizione antitasse, io contesto il fatto che io non pago quella tasse perché puoi fare fuori un programma e allora in questa maniera sì che la politica entra nei palinsesti di una televisione, perché io non pago il canone solo perché fai fuori quella trasmissione, cosa che peraltro non si deve fare fuori per me, il punto è legarlo a una trasmissione il non pagamento del canone, vabbè, insomma forse può apparire un po' più sofisticato questo discorso, la cosa che vi diverte oggi, la ricordano molto i giornali, che Grillo nel 2013 disse che ai Floris e alle Gabanelli avrebbe fatto un culo così e lo dice in uno spettacolo e viene riportato oggi da alcuni giornali perché lo cita il famoso Michele Ansaldi che oggi è in Commissione Vigilanza, lo cita e ha buon gioco a citarlo sui giornali perché se Grillo voleva fare un culo così alla Gabanelli e a Floris, Floris gliel'hanno fatto, alla Gabanelli poi lui addirittura l'ha ricandidata alle presidenziarie, non so come si chiamava, beh, insomma nel DNA del Movimento 5 Stelle questa specie di attenzione sacrale nei confronti di un programma non c'è, soprattutto perché all'epoca la Gabanelli si era occupata dei soldi di Grillo. Detto questo, il pezzo migliore oggi dei giornali e secondo me il fondo migliore dei giornali e l'unico senza ipocrisia è di Alessandro Sallusti che dice che il report non si deve chiudere, ma il report è una schifezza perché nell'informazione chiunque cerchi, chiunque cerchi disperatamente di trovare qualche cosa alla fine lo trova, trovare un medico che dica che i vaccini fanno male alla fine lo trovi, il punto vero è come costruire la storia. Oggi Ranucci, il conditore di report, scrive una lettera al Corriere scusandosi, dicendo che io, tra l'altro l'ha fatto all'inizio della trasmissione, ho detto che i vaccini obbligatori non sono in discussione e ne ho messo in conto soltanto su uno, che è quello del papillomavirus. Non voglio entrare nel merito, oggi i giornali parlano solo di questo, mentre succedono grandi casini in giro per il mondo, l'unica cosa che in Italia ci si occupa è dei vaccini perché dividono, secondo me, un certo tipo di establishment dagli anti-establishment, semplicemente quelli tipo il Movimento 5 Stelle che vedono nei vaccini, vedono nel Big Pharma, cioè hanno questo atteggiamento, diciamo, complottista. Vi ripeto, se volete leggere la cosa meno ipocrita oggi sul giornale, la leggete su Sallusti in cui dice il report fa schifo ma deve essere mantenuto in vita e chiunque voglia trovare una verità sua nell'informazione la trova. Smettetela di avere questa specie di santuario, aggiungo io, ma ha ragione e ce l'ha spiegato bene Popper, per cui esiste una verità e c'è qualcuno che ci si avvicina, no? Ci sono tante verità, non vuol dire che questo ci debba portare a un relativismo totale, ma sui vaccini e sul pavilloma virus questo ne è testimonianza, dice Sallusti. Fantastica la storia di Tarquinio, perché Tarquinio, il direttore dell'Avvenire, uno è trino, anzi uno è quattrino, no? Perché dice che o tre quarti delle cose che dice il Movimento 5 Stelle sono condivisibili dal mondo cattolico. Ha detto ieri sul Corriere della Sera e nel frattempo veniva intervistato Grillo dall'Avvenire, quindi c'era una specie di scambio tra Avvenire e Tarquinio. Tarquinio, il direttore, si faceva intervistare al Corriere della Sera dicendo che tre quarti delle cose di Grillo erano accettabili e Grillo invece faceva un'intervista su Avvenire. È chiaro che qualcosa c'era. Oggi, siccome sono tutti furibondi all'interno delle gerarchie ecclesiastiche, oggi Tarquinio fa un passo indietro e dice che è un personaggio, io c'ho avuto a che fare, mi ricordo che in trasmissione, siccome abbiamo un po' bisticciato, io in genere non bisticcio con nessuno, lui mi ha detto conosco i tuoi capi, conosco i tuoi capi, mi ha detto Tarquinio. Come se questo, cioè già mi hanno fatto fuori dalla Rai, appena è arrivato a Mediaset, e forse l'atteggiamento mio nei confronti di Tarquinio mi avrebbe compromesso, non so, un rapporto con chissà quale capo. Vabbè, posto che questo è lo standing di Tarquinio, per cui alcune cose sono condivisibili, ma i suoi atteggiamenti sono spesso strani, le gerarchie ecclesiastiche ce l'hanno un po' con lui. Questo dicono e oggi ho fatto questa marcia indietro dicendo che le sue erano solo opinioni personali. Però oggi, su Repubblica, Alberto Melloni mi fa ridere e spiega il motivo per il quale mi fa ridere, nel senso che è una persona seria, non mi fa ridere in sé, però dice che il clerico-grillismo oggi ha un problema all'interno delle gerarchie ecclesiali, pensate un po' voi perché? Perché le gerarchie clerico-ecclesiali pensano che il Movimento 5 Stelle sia di destra, nelle sue idee, nelle sue establishment, siano di destra, perché la teoria è che se tu non ti definisci né di destra né di sinistra, sei di destra. A parte questa costruzione di Melloni, a me diverte moltissimo che la chiesa sarebbe contro il Movimento 5 Stelle perché di destra c'è una specie di proiezione che Melloni fa contro la destra attribuendola al Movimento 5 Stelle e quindi in questa maniera dicendo che Tarquinio non poteva che ha detto una stupidaggine. La trovo una cosa un po' cervellotica questa cosa di Melloni, quello che è certo che tutti i retroscene di oggi sui giornali e la marcia indietro di Tarquinio farebbero pensare che le gerarchie gli hanno dato una bacchettata a Tarquinio e con la chiesa non si scherza, neanche si deve scherzare con le brigate ebraiche che fanno benissimo, cioè su tutti i giornali oggi, a non partecipare alla manifestazione del 25 aprile fatta dall'Ampi perché quella non è più diventata una manifestazione della resistenza, è diventata una manifestazione dei centri sociali. Nel 2013-2014 furono contestate le bandiere della brigata ebraica e sono gli unici che hanno le palle, quelli della brigata ebraica, ovviamente per motivi che gli rodono direttamente a loro del rapporto con Israele, ma questi legittimi motivi della brigata ebraica dovrebbero essere fatti da tutti quelli che non fanno parte della brigata ebraica e che pensano che queste manifestazioni dell'Ampi sono diventate semplicemente manifestazioni politiche che non hanno nulla a che fare, sempre che uno voglia così incensarla come una specie di straordinario evento storico, la resistenza. Quindi bene fa la brigata ebraica e bene fanno quelli che ridicolizzano manifestazioni fatte dai centri sociali con la scusa della resistenza. Queste sono diventate le manifestazioni del 25 aprile. Sui giornali così chiaramente non c'è scritto, ma la posizione della brigata ebraica è scritto su tutti. Una breve, ma non è più di quello, ma molto più peso riguardo l'IVA, che riprende le considerazioni fatte ieri da Renzi proprio a Matrix, che non verrà aumentata, speriamo che sia così, 15 righe molto interessanti sull'IVA fatte sul Corriere della Sera, per cui il Presidente della Federazione Alimentare Scorda Maglia dice, mi sembra una stronzata aumentare l'IVA. E questo lo dice anche in contrasto con il pensiero di Confindustria. Per chi fosse interessato, buona, bella, interessante intervista oggi del mio ex capo che seguo sempre con attenzione ovviamente, che si chiama Luigi Gubitosi sul futuro dell'Alitalia e sul cambiamento anche di management. Vedrete, c'è un passaggio importante che si deve fare per poter riportare quell'azienda, riportare finalmente un'azienda che sembra negli ultimi anni ad avere sempre il solito percorso fallimentare. Vi saluto, vi do appuntamento a domani con la zuppa di porro e forse a qualcos'altro oggi pomeriggio, visto che ci sono tante cose che si muovono. Ciao!